buongiorno a tutti sono michela veronelli del centro estetico laser zero oggi voglio presentarvi la mia cara vecchia bambina il mio laser adiodo che bello sarebbe non doversi preoccupare di niente la ceretta la lametta la sofferenza essere pronte domani c'è bel tempo voglio andare in piscina no non ho fatto i peli stasera devo uscire voglio mettere la gonna no l'appuntamento per la ceretta domani se io vi dicessi e con il laser tutti questi problemi non ci sono più partiamo dal presupposto che io non mi sto vendendo un trattamento miracoloso perciò i peli non scompariranno mai al cento per cento allora avremo un 70 80 90 per cento di risultato quello dipende da voi e un po anche da me ma non ci sono numeri di sedute non ci sono numeri di trattamenti non ci sono laser miracolosi il laser migliora migliora la pelle e migliora la situazione del pelo ciò vuol dire che voi potete farvi la lametta ogni volta che volete i peli diminuiranno drasticamente e voi sarete tranquille e libere di essere sempre pronte sia per andare in piscina che per andare a ballare allora il laser ad iodo è un trattamento abbastanza non dico complesso ma io ci tengo molto a spiegarlo di persona vorrei vedervi vorrei parlare con voi e vorrei aiutarvi a risolvere davvero questo problema che sia per donne che per uomini inizia essere sempre più un malessere un malessere generale non dico a livelli di alimentazione o sport o dimagrimento ma secondo me è anche una cosa molto più importante perciò che dirvi posso darvi solo un consiglio prima di vedervi fatele ora e non aspettate che diventino bianchi ciao